Adesso dipende anche da noi, dalla nostra intelligenza, dalla nostra coesione, dalla capacità che avremo di decisioni efficaci. Sono convinto che insieme ce la faremo, che il legame che tiene uniti tutti noi sarà più forte delle tensioni e delle difficoltà. Ma so anche che la condizione per che questo avvenga sarà legata al fatto che ciascuno, partecipando alla ricostruzione che ci attende, ricerchi come unico scopo il perseguimento del bene della Repubblica, come bene di tutti, nessuno escluso. Domani mi dichiarò a Codogno, luogo simbolo dell'inizio di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime e per attestare il coraggio di tutte le italiane e tutti gli italiani che hanno affrontato in prima linea, spesso in condizioni estreme, con coraggio e abnegazione la lotta contro il coronavirus. Desidero ringraziarli, tutti e ciascuno. L'Italia in questa emergenza ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio Paese. Grazie. Grazie.